Isabella Noventa sarebbe stata uccisa con due colpi di martello in testa, il primo in fronte e poi sulla nuca sferrati da Deborah, che poi avrebbe urlato al fratello Freddy di mettere un sacchetto in testa e stringere al collo una fune per impedire che uscisse del sangue. E' questa la macabra ricostruzione dell'omicidio fatta da Manuela Cacco davanti al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari, confermata la versione ripetuta già altre quattro volte in passato. Deborah Sorgato ha raccontato tutto alla tabaccaia di Camponogara quando lei, la notte del 15 gennaio, è arrivata a casa di Freddy per andare a ballare al Relax Club. I due fratelli Sorgato erano appena scesi dalla golf di Deborah, si erano appena sbarazzati del corpo, racconta Manuela nel suo interrogatorio fiume, durato quasi sei ore. All'uscita dall'aula, l'avvocato di Freddy Sorgato non ha voluto commentare l'esito dell'incidente probatorio, ma ha chiesto che venga rispettata la presunzione di innocenza del suo assistito. Lunedì la Cacco verrà interrogata dall'avvocato della famiglia Noventa e da quelli dei fratelli Sorgato.